Anticipazioni una vita. Mercoledì, 13 gennaio 2021. Alla fine della mostra di pittura, come accaduto già tante volte, Susana e Armando restano da soli e si avvicinano. L'ex Sarta inizia ad avere dubbi sui suoi sentimenti e si rende conto di ciò che prova. Bellita ed Alfonso preparano la trama del film. Il produttore desidera che parli della vita della giantante e Bellita approva questa proposta. Allo stesso tempo, però, è molto preoccupata perché non ha mai recitato e non sa come potrebbe apparire sullo schermo. La donna, quindi, insiste per fare delle prove e per rendersi conto del suo aspetto. Sinta, e Camino, sono felicissime dell'opportunità che hanno avuto, e sono anche grate a Bellita. Le due ragazze, passano moltissimo tempo insieme, e fantastigiano anche, su un possibile futuro di attrici, che attira molto entrambe. Felipe, chiede a Marzia di sposarlo. E la ragazza, naturalmente, accetta. Rendendo felice, e finalmente sereno, l'avvocato. L'alvare Sermoso, decide di perdonare finalmente Mauro. Dato che ormai, la situazione si è risolta. Sermoso, è un'altra, 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 Grazie a tutti.